Il recupero della stazione Marconi a Coltano, il comune di Pisa aveva già annunciato lo stanziamento di un milione di euro per effettuare appunto i lavori, ora però il sindaco torna a chiedere partnership internazionali pubbliche e private. Un milione di euro per il recupero della stazione Marconi di Coltano lo annuncia il sindaco di Pisa Michele Conti in vista della conferenza Un mondo nuovamente connesso, una storia che continua che si tiene a Pisa lunedì 11 ottobre in occasione della ricorrenza dei 90 anni dall'accensione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro a opera di Guglielmo Marconi. La struttura da anni versa in stato di pessima conservazione, tanto da essere tra i primi posti nel censimento dei luoghi del cuore da recuperare del FAI. Il comune ha ottenuto la concessione demaniale per due anni e ora si impegna nella ricerca di partnership. Vogliamo investire un milione di euro per i primi interventi di consolidamento e recupero, ha detto il sindaco Michele Conti, ma siamo consapevoli che da soli non possiamo farcela. Per questo ospichiamo partnership internazionali pubbliche e private con l'obiettivo di creare a Coltano un museo marconiano in collaborazione con quello esistente della Fondazione Marconi al fianco di un sistema moderno di start-up che possono essere ospitate all'interno della stessa struttura. Per unire idealmente, conclude il sindaco, passato e futuro delle telecomunicazioni e riportare a nuova vita questo importante pezzo di storia. A San Minato invece il sindaco E.